Quanto si risparmia secondo lei? Ma intorno al 30%-40% All'incirca un 380 euro All'usato è quasi la metà, decisamente Sì, sono anni che faccio questo, almeno risparmio un bel po' Il viavai è continuo nel mercatino del libero scolastico stato di azione studentesca, la mezzia terme Quasi 600 le famiglie che sono ricorse all'acquisto o alla vendita di testi di seconda mano nell'ultimo mese Un dato importante, cartina di tornasole di un'esigenza non solo delle famiglie della città della Piana Tra scuole secondarie di primo e secondo grado, acquistare i libri può arrivare ad incidere fino a 400 euro sulle tasche delle famiglie Una spesa decisamente salata, soprattutto quando il lavoro latita Per me sì, è importantissimo perché lavoro solo mio marito, io sono disoccupata, ho due figli, pago un affitto e quindi sono dovuta venire qua C'è chi lascia i propri libri scolastici, questi vengono valutati una volta venduti i soldi dati a chi li ha ceduti C'è chi invece si reca al mercatino nella speranza che gli addetti, spulciando le liste dei libri dei loro figli, riescano ad individuarne qualcuno usato da vendere loro Trovare copie di testi di seconda mano non è infatti così facile, gli insegnanti li cambiano di continuo o chiedono edizioni specifiche Abbiamo organizzato questo mercatino perché secondo noi dovrebbe esserci il libro di testo elettronico E poi contro una speculazione delle case editrici, che ogni 4-5 anni cambia un'edizione del libro e che va a gravare sulle tasche delle famiglie lametine, di tutti gli studenti italiani I soldi recuperati dall'usato possono essere reinvestiti nel resto del bagaglio scolastico, dagli zaini ai quaderni, continuando così a produrre economia per il territorio Tiziana Bagnato per la CNews24 Tiziana Bagnato per la CNews24